Un'iniziativa di beneficenza in ricordo del dottor Alessandro Guidotti per tutti Sandro, scomparso il 15 maggio scorso a 65 anni, responsabile del servizio di radiologia della Casa di Cura Pierangeli. L'evento avrà luogo sabato 13 maggio presso il Teatro Flaiano a Pescara a partire dalle 20.30. È stato fin dalla nascita della nostra associazione, la LASMOT, Lega Abruzzese a sostegno del malato oncologico toracico, alla nostra ONLUS. Lui è stato sempre molto vicino, ci ha dato una collaborazione sempre attiva, costante e gratuita, eseguendo migliaia e migliaia di TAC, a titolo appunto gratuito, per lo screening del tumore del polmone, che è una delle iniziative principali della nostra ONLUS, ma non la sola. Noi abbiamo organizzato eventi scientifici, abbiamo organizzato incontri di prevenzione sulle piazze, nei centri commerciali, nelle scuole, molte iniziative anche nelle scuole. Abbiamo fatto della ricerca, abbiamo pubblicato dei lavori scientifici su riviste internazionali, quindi diciamo un'attività continua e costante. Sono già 500 le persone che hanno aderito con l'acquisto di ticket da 10 euro, ancora disponibili presso il botteghino del Flaiano. La serata sarà presentata da Mila Cantagallo e Luca Evangelista. Quindi la frase che io ricordo di Sandro è che ne pensi tu? Perché mi chiamava, magari per farmi vedere delle TAC, mi diceva ma tu che ne pensi di questo? E io rispondevo Sandro ma tu ne sai molto più di me. Però questo è proprio segno, questo segno di umiltà è segno delle grandi persone. Una vera e propria rete della prevenzione che ha nelle sue maglie il lavoro dei professionisti, ma anche la disponibilità di strumenti come la TAC. Le prestazioni vengono eseguite nella clinica Pierangeli, da non dimenticare anche l'apporto della ricerca dell'Università d'Annunzio. Oltre ai familiari e ai colleghi agli amici di sempre, saranno presenti personaggi ed artisti come Marco Morandi, Pietro Mazzocchetti, Vincenzo Olivieri, Franca Minucci e tanti altri. Durante l'evento si terrà la premiazione di Marzia Olivieri, alla quale andrà una borsa di studio offerta dalla famiglia Guidotti per la migliore tesi di specializzazione in radiologia. L'intero ricavato sarà devoluto all'Asmo Tonlus, l'associazione presieduta dal dottor Paolo Angelucci, coadiuvata da un comitato scientifico diretto dal professor Lococo.